Non necessariamente si prepara una sagoma, non deve essere una cosa messa giù pianino, 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 perché ti risulta più tremolante, mentre se lo fai rapidamente, poi questo servizio verrà fuori talmente bene che ci copieranno tutti in America. Si, è nato a più suono. Si, è nato a più suono. Il risultato è stato un'altra cosa. Avrai l'olio di suonare? I loro studenti devono insegnare il viso e il mio cuore. Si è accorciato il piantavigna, ma se tu non è un po' di più, ti sei allungato il riso. That's fabulous! Mi fai una carta che dovrà servire? Si, fatto in Hawaii. Ah, ma è proprio una cosa dipinta a mano questa qua. Si, si, si. Da un artigiano che lavora per voi. Si. Grazie! Grazie! Grazie.